Sono Torosio Furio, il coordinatore tecnico di Udinese Academy. Guido quattro degli allenatori che poi fanno le visite presso di voi, che sono Iosella Cagnina, Luigi Guomo, Marcello Campolonghi e Luca Cavallo. Abbiamo preparato all'inizio della stagione sportiva indubbiamente un format che poi viene seguito presso di voi. Oltre a questo naturalmente abbiamo iniziato l'attività con la formazione dei tecnici presso la Dacia Arena e abbiamo proseguito con i quaderni tecnici che vi sono stati spediti e con l'applicazione SharePoint che curiosa un po' sull'attività del settore giovanile sulle squadre nazionali e sulla parte dedicata ai più piccoli presso il centro Bruseschi, attivo a Dacia Arena. Oltre a tutto questo avevamo preparato i raduni selettivi come ogni anno per i vostri migliori atleti e avevamo preparato le qualificazioni delle finali per l'Academy League. Davanti a questa situazione nuova che si è prospettata abbiamo dovuto per il momento stoppare alcune di queste attività e rimandarle. Naturalmente dal punto di vista tecnico non vogliamo stare fermi e vogliamo starvi vicino e abbiamo pensato di attingere i social per comunicarvi tutto il nostro lavoro. Ripartiremo quindi con Facebook e con Instagram per darvi ulteriori contributi e speriamo che siano sufficienti come sempre per accendere la vostra fantasia e adattarli alla vostra realtà.